Buongiorno e benvenuti a questa resa di stampa di oggi 19 giugno. Vediamo subito i titoli fondamentali dei giornali di oggi. Mettiamo bene il microfono. Bene, il Colle striglia ai magistrati, il titolo del Corriere della Sera. Ci vanno un po' tutti quanti i giornali importanti nell'occasione di una commemorazione di alcuni magistrati uccisi tra l'80 e il 90. Insomma, il Presidente Mattarella dice gravi e baste distorsioni della magistratura. La magistratura fermi la degenerazione delle correnti nel CSM. Insomma, quello del Presidente della Repubblica viene considerato un monito. Io, che voglio essere ancora un po' più pesante, dico che ci sono due membri di questo Consiglio Superiore della Magistratura che avrebbero ottenuto favori, avrebbero chiesto e posti allo stadio, eccetera. Forse una frasettina in più avrebbe terremotato un pochino di più il Consiglio Superiore della Magistratura e dove giustamente il Presidente della Repubblica dice alla destra, non chiedetemi di fare di più, però io che non sono, voglio dire, la destra politica, ma sono semplicemente un pensatore di destra, dico forse il Presidente della Repubblica invece di fare grandi moniti in qualità di Presidente del CSM e forse un po' di moral suasion rispetto ad alcuni componenti attuali del CSM, non le correnti, ma iper di sinistra che si sono macchiati di rapporti, diciamo così, più che amicali con Palamara, l'uomo nero del CSM a cui hanno chiesto alcuni favori, insomma su quello sarebbe potuto intervenire un po' più direttamente. Sanzionetti che però è una garanzia, diciamo, per quanto riguarda le letture della magistratura, dice che ha fatto bene il Presidente, è positivo sul riformista, il suo giudizio e ricorda anche un'altra cosa che è avvenuta ieri, cioè uno dei membri del CSM, Di Matteo, che in televisione ha detto che il Ministro della Giustizia all'ultimo non l'ha nominato capo del DAP, cioè del Dipartimento delle Carceri, fondamentale per l'ordine pubblico, insomma Di Matteo ritratta, o meglio cambia un po' versione, dice probabilmente non è che sono stati i boss mafiosi a convincere Buonafede, cosa che neanch'io potevo ritenere, per quanto io considero Di Buonafede un pessimo ministro, non posso pensare che lui venga influenzato dai boss mafiosi, anzi non lo penso proprio, e dice Di Matteo chissà chi altro l'ha influenzato, e si chiede, come si chiama, Sanzionetti, magari qualche altro magistrato, quindi sulla vicenda dei magistrati c'è un'altra cosa che vi segnalo, la verità con Amadori che segue le intercettazioni della seconda fascia, cioè quelle che sono uscite nei mesi scorsi e che stanno inguagliando la parte sinistra del CSM, Palamara si presenterebbe alla ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che lui ha presieduto, Palamara ha presieduto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, si presenterebbe con delle intercettazioni inedite, una di queste riguarderebbe un giornalista del Corriere della Sera, e si trema, insomma un altro bel gesto di Palamara per metterla a posto. Riguardo alla epidemia, nei giorni scorsi si è parlato della Cina, si è rimesso la grande paura del ritorno dell'epidemia, e ieri il fatto che i napoletani avessero festeggiato la vittoria calcistica è diventato finalmente, dice qualcuno, mi sembra il Corriere del Mezzogiorno, la rivincita del Nord contro il Sud, indisciplinato! Finalmente siamo passati dagli aperitivi di Milano ai tifosi che si abbracciano a Napoli. E dov'è il lanciafiamme che voleva De Luca? Si chiede De Magistris e poi tante altre considerazioni di questo tipo. E poi l'OMS che cosa dice? Fate male, quelle immagini fanno male vedere quelle immagini, dice l'OMS, ragazzi che si assembrano e che si abbracciano. E poi Polito, scene disgustose, ora tamponi per tutti! Fantastico, no? Fantastico! E' finita il mondo oggi, Massimo Gnola, che io peraltro stimo su Repubblica, dopo tanti mesi di sacrifici vanificati da questi napoletani sciagurati che si abbracciano per la vittoria del calcio. Toc, toc! Volete leggere Remuzzi oggi sul Corriere della Sera? Perché se non sapete che facciamo? Non ci abbracciamo più! Perché poi potrebbe esserci la seconda andata a settembre, e poi la terza untata, e poi un nuovo coronavirus. Ma smettiamola di andare al cinema, smettiamola di vivere senza mascherine, viviamo negli scafandri in una paura di una malattia che potrà ritornare per i prossimi decenni. Sono un pazzo negazionista io? No! Perché oggi Remuzzi, che non è porro, non è un deficiente come Nicola Porro, non è un negazionista, che non sono ovviamente come Nicola Porro, Remuzzi dice, che lo dice da mesi, dice che la possibilità ormai è una carica virale molto bassa, non è più contagiosa, non diffondiamo paure ingiustificate! Nel senso che puoi criticare quello che vuoi, ma se a Napoli non hanno avuto i contagi, non c'è stata la malattia, e oggi anche nelle zone in cui ci sono i contagi, cioè a nord, dice Remuzzi, la possibilità è bassa, almeno cari amici dell'OMS, cari amici degli ospedali, non ci fate cagar sotto per tutta la vita! E poi leggo ancora Zangrillo, sarà certamente un negazionista anche loro, tra poco, via la mascherina, il positivo non è malato! Il positivo non è malato! Avete capito? Questa cosa non gli entra cazzo al giornale unico del virus, perché ci deve terrorizzare per sempre! E quindi questi napoletani sono degli sciagurati! Certo, De Luca, con lo stesso criterio per cui erano sciagurati quelli dell'aperitivo di Milano, avrebbe dovuto prendere a lanciafiamme anche i napoletani, ma non lo fa! Ma De Luca sapete quello che è, è quello che è appunto! Ricolfi mantiene la sua linea, che è sempre quella di enorme prudenza che aveva prima e che a oggi io stimo Ricolfi, quindi quando lui dice che ci sono delle regole e che bisogna rispettarle ha perfettamente ragione, ma la pone su un aspetto formale, ci sono delle regole, rispettiamole! Se non le rispettiamo, non potete dire che non le rispettiamo per il 25 aprile, non le rispettiamo per il calcio, non le rispettiamo per Mattarella, e la non le rispettiamo per la manifestazione dei berlusconiani. E lui semplicemente va su questa linea del rispetto delle regole. Voglio dire, legittimo dal suo punto di vista e soprattutto molto diverso rispetto a questi altri quattro scialtroni che invece ci vogliono tenere in questa specie di cappa di paura per sempre. I napoletani potevano fare a meno di quella festa, sì, ma potremmo fare a meno anche di andare ai bar, potremmo fare a meno anche di andare ai ristoranti, ma per quanto, fino a quando, quando è che uno di questi cazzoni ci dirà adesso potete abbracciarvi, io voglio sapere, ci sarà uno di loro che ci dirà prima o poi potete abbracciarvi? A settembre no, perché potrebbe riavvenire, e se c'è un po' di influenza a settembre e non sappiamo se riviene un nuovo coronavirus, qualcuno darà il libera tutti ai nostri affetti prima o poi? O poi dobbiamo continuare in eterno? Perché oggi certo, ci sono tutti contro quella piazza di Napoli, io poi frega relativamente la vittoria del Napoli, ma dico, qualcuno a un certo punto ci darà il libera tutti di questi cazzoni? No, mai, dovremo vivere in questi incubi, dobbiamo cercare di pensare che non c'è più socialità, caro Mario Gnola, e l'altra cosa che dici, dopo tanti mesi di vanificati, non si vanifica niente, e smettiamola con questa retorica, i mesi di sacrifici che hanno fatto i napoletani, perché il contagio non c'era a Napoli, ma c'era a Milano, e l'hanno fatti, oggi non sono vanificati da nulla, perché la carica virale è più bassa, i contagi sono più bassi, e il contrario, dopo tanti mesi di sacrifici, caro Gnola, possiamo a un certo punto dire, ragazzi, oh, ce lo siamo portati dietro questa cosa, dopo i tanti sacrifici e i morti che hanno avuto il colera, a un certo punto si sono risollevati i napoletani o devono vivere tutta la vita con l'incubo del colera? Boh, poi qualcuno stabilirà quando potranno liberarsi. Facebook questa volta blocca lo spot di Trump, e quindi tutti contenti perché Facebook, a differenza di quanto avesse fatto soltanto pochi giorni fa, ha considerato uno spot di Trump istigazione all'odio, e devo dire che come ho scritto, e come ho detto a un'amica collega che mi ha intervistato su Grazia, una cosa sono gli spot commerciali, una cosa è le opinioni, se Facebook blocca uno spot commerciale perché parla di istigazione all'odio, beh, insomma, i commercial, anche nei giornali, vorrei comunicare tutti quelli che godono contro Trump, beh, insomma, sono sempre, anche per il giornale, mi ricordo che alcune pubblicità, diciamo, vagamente fasciste, venivano censurate, perché si paga e non è un'opinione quella. Il fatto intervista Fazio, ed è un'intervista meravigliosa, perché è arrabbiatissimo, Fazio è durissimo, poi dici, mi ha attaccato 123 volte Salvini, allora, su questo io do ragione, Fazio, i politici che attaccano i giornalisti così dritti, posto che i giornalisti attaccano i politici dritti, ma non dritti, ma obliqui, come fa Fazio, come fanno la Gruber, come fanno tanti, come faccio io, io sono un po' più dritto sul conte, ma comunque, noi attacchiamo i politici, quindi se i politici ci attaccano, più o meno ce lo dobbiamo aspettare, però non è una cosa gradevole, i 123 attacchi che Fazio ha avuto, penso, è normale, tutti gli attacchi che ha avuto Fazio da Salvini, e io considero questa cosa non normale, ma considero anche non normale, che Fazio vada dal fatto, e piagnucoli, perché la RAI ha deciso di fare, nei suoi confronti, quello che fa per tutti quanti noi, cioè è abbastanza strano, che Fazio si produca il suo programma, e abbia il coraggio di dire, la RAI d'azienda pubblica, ha troppe regole, che rendono impossibile, la produzione interna, toc toc, no Fazio, perché prima che mi cacciassero dalla RAI, per tre anni, una produzione interna, io con la RAI, l'ho fatta, troppe regole, ho faticato di più, non ho pagato 20.000 euro, un ospite come fai tu tutte le volte, con i soldi dei contribuenti, certo, non potevo fare quella roba lì, ho avuto tanti casini, in effetti, ma io una produzione interna, l'ho fatta, e non sono solo io l'eroe, che ha fatto virus, internamente alla RAI, tante persone, continuano a fare produzione interna, alla RAI, quindi che sia impossibile farlo, è falso, che sia difficile farlo, è vero, ma di fatti, sei pagato 2 milioni, per la difficoltà, di fare un programma in RAI, tra l'altro autoprodotto, quindi insomma, tutto si può accettare da Fazio, tranne che piagnucoli, sulle produzioni, e sui soldi, perché non penso che ci sia nessuno, nessun giornalista, il RAI, che si prende 2 milioni di euro, il che è illegittimo, sono contento per lui, ma almeno non piagnucolare, cazzo, ma almeno non piagnucolare, perché tutta questa storia, nasce dal fatto, che la RAI ha detto, vieni qua, adesso le produzioni, ce le facciamo internamente, e ha ragione Fazio, cerchiamo di renderle, un po' più semplici, vieni qua, dai un po' più di soldi, guadagna un pochino di meno, cosa che penso, che tutti quanti, stiano facendo in questo momento, e dà fastidio a tutti quanti, compreso il sottoscritto, quindi poco da piagnucolare, dal mio punto di vista, sull'economia, e sugli stati generali, ragazzi, io vi devo leggere, un incredibile Ferrara, dice, non sono operazione propagandistica, gli stati generali, non sono operazione propagandistica, ha il coraggio di scrivere Ferrara, che peraltro ha detto, che questa era la miglior classe dirigente, che potessimo immaginare, Conte, Bonafede, e questi erano la migliore classe dirigente, che potessimo immaginare, quindi gli stati generali, ha il coraggio di scrivere Ferrara, non sono operazione propagandistica, sono dieci giorni, che scandalizzano, dieci giorni, che scandalizzano alcune menti malate, dei commentatori, un lavoro inutile, non sembrerebbe, secondo me, le menti malate dei commentatori, voglio dire, io chiederei a voi, ma chi è la mente malata? Ma non c'è neanche da discutere, a parte che il fatto, sono 40 righe, in cui c'è soltanto una considerazione apodittica, utilissimi i stati generali, ma non ci spiega perché, per come, non c'è un motivo, dice semplicemente che sono utilissimi, e soprattutto che quelli che le considerano una passerella, sono delle menti malate, menti malate, secondo me Giuliano, che è una persona molto intelligente, che un tempo scriveva anche bene, un po' di malattia, se la deve essere presa anche lui, con tutto il rispetto, nei confronti del mio ex direttore, perché considerare menti malate, quelli che si permettono di dire, che questi dieci giorni, cioè di incontri con i sindacati, con la Confindustria, che tra l'altro lui sfotte, dice, ma sta Confindustria, che si viene a chiedere, 3 miliardi di accise, lo mette in una parentesi, come sa far lui, in maniera snobbistica, vorrei, toc toc, ricordare, al nostro prestigioso direttore, quello che scrive, in 10 righe Italia Oggi, che 3,4 miliardi, che chiede la Confindustria, non sono un regalo, dice Italia Oggi, 8 mesi fa, una sentenza della Cassazione, della Cassazione, ha detto, che le industrie, avevano pagato indebitamente, 3,4 miliardi di euro, che lo Stato doveva restituire, quindi quello là, si è presentato, dal Confindustria, dal Conte, ha detto, senti, visto che stiamo a dare, tante cazzate, magari, ci ridai quegli 8,4 miliardi, che oggi ci servirebbero tanto, che sono dovuti, non è uno sconto fiscale, non è un regalo, l'ha deciso la Cassazione, che erano stati presi, indebitamente dallo Stato, ve lo spiega, oggi Italia Oggi, nel frattempo, c'è una specie di character assassination, in questa giornata di fatto quotidiano, nei confronti di, come si chiama, di Bonomi, il Presidente della Confindustria, perché dice, il ragioniere di Crema, che si prende una specializzazione in economia a San Diego, e l'unica cosa che ha, è una partecipazione di 31 mila euro, in un'azienda, che imprenditore non è, ed è vero quello che dice Travaglio, cioè che questo Presidente della Confindustria, non è un imprenditore, è un ragioniere, non imprenditore, che non ha mai fatto imprese, se non partecipazioni finanziarie nella sua vita, l'ho detto e l'ho scritto mille volte, però mi verrebbe da chiedere, e perché Conte è un politico, ho fermato, voglio dire, ognuno poi nel suo ruolo ci si trova, più o meno bene, e Bonomi all'inizio mi sembra che ci stia provando, certo non un imprenditore, auto a rischio, titolo è solo 24 ore, grazie al cavolo, abbiamo detto tutti quanti noi, abbiamo fatto gli incentivi per i monopattini, e le biciclette, e non per il settore auto, dove c'erano i piazzali pieni di auto, il 40% dei concessionari, dice il sole 24 ore, rischia di chiudere, e noi stiamo qui che cazzeggiamo, sulle stupidaggini, delle bici elettriche, dei monopattini, che piacciono tanto a Sala, che piacciono tanto alla Raggi, che sono prodotti per l'80% in America, o in Cina, e che a me va benissimo, ma ragazzi, ma dare un incentivo, perché dai soldi dall'Italia, arrivino là, per comprare una roba totalmente inutile, io la trovo una cosa pazzesca, ancora pazzesco invece il gradimento che Conte ha nei confronti italiani, lo dice Ilvo Diamanti, sei italiani su dieci amano Conte, e il Feltrino però, oggi Mattia Feltri, sul fatto della storia, e delle operazioni storiche di questo governo, e dei grillini, oggi mi ha fatto pisciare dalle risate, perché dice, storico quando vinse Pizzerotti, storico quando vinse la Pendino, quando vinse la Raggi, quando approvarono il primo MEF, quando tagliarono i soldi ai partiti, quando fecero il regno di cittadinanza, tutto storico, beh, insomma, l'idea di queste operazioni storiche degli ultimi anni, dice, è stupendo, vi concludo il pezzo di Azzurra Barbuto, oggi secondo me vale la pena di leggerlo, dal Creti, il Vaticano si converte al Gretinismo, spinto dopo l'incontro del 17 aprile 2019, il Vaticano è diventato il popolo, e devo dire che ce l'avevano un pochino nelle sue radici, ma adesso il Gretinismo, che si respira dalle parti del Vaticano, non lo respirate da nessuna altra grande istituzione mondiale, forse con la finta, il World Economic Forum degli ultimi anni, fa finta di, o l'Oxfam, questi grandi cose che devono perdonare le loro ricchezze, forse anche il Vaticano, per perdonare qualche altro suo peccatuccio, oggi sembra molto più vicino, madre, natura, o sorella, terra, non so come si dice, direi che per oggi è tutto, sul sito nicolaporro.it, tutte le notizie, i commenti della giornata, compresi gli inni d'Italia che non sappiamo cantare. Ciao!